Ciao e benvenuto al progetto Prevent4Work. Il progetto Prevent4Work è finanziato dall'Unione Europea e mira a prevenire e ridurre problemi muscoloscheletrici sul posto di lavoro. A tale scopo sono stati sviluppati strumenti digitali interattivi e contenuti basati sulle ultime conoscenze scientifiche. Adesso vi presenteremo la nostra piattaforma di formazione. Puoi accedere alla piattaforma attraverso l'app P4Work sul tuo dispositivo mobile o attraverso la sezione e-learning del sito web P4Work. Per accedere dovrai usare lo stesso nome utente e la stessa password che hai usato per registrarti all'app P4Work. Questa è la schermata principale dove potrai accedere ai corsi a cui sei iscritto. Ricordati di accedere al corso in base al tuo profilo. Lavoratore, professionista sanitario o studente. Proviamo ad accedere a un corso. Questa è la schermata principale di un corso. Attraverso questa sezione potrai visualizzare i progressi fatti. Inoltre è possibile scaricare il materiale complementare di un corso e creare il tuo piano personale di studi. Diamo adesso un'occhiata alla sezione lezioni. Attraverso questa sezione è possibile accedere al corso e visualizzare il contenuto. Per aiutarci a migliorare i contenuti sarebbe utile che tu completassi le valutazioni e i sondaggi al termine dei corsi. Diamo un'occhiata ora alla sezione contenuto del corso. Da questa sezione potrai seguire un corso o compilare un test di valutazione. Selezioniamo inizia la lezione. Ecco un esempio di un corso. Nell'angolo in alto a sinistra potrai vedere l'indice e il tuo progresso nei diversi argomenti del corso. Durante il corso appariranno schermi interattivi con diapositive, video o quiz. Non dimenticare di richiedere il certificato una volta completato il corso. Infine nella sezione i miei messaggi potrai comunicare col tuo tutor e accedere ai forum. E questo è tutto per ora. Speriamo che i corsi ti piacciano. Sei pronto a iniziare? Grazie. 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 Grazie.